Dopo la regular season e dopo i due gironi play-off, il campionato di basket di Serie C Silver Ligure ha decretato le magnifiche quattro che si giocheranno la promozione. Alle semifinali play-off si presentano Cus Genova, Tarros, La Spezia, Vado e Ospedaletti. Ad affrontarsi saranno in una semifinale Cus Genova e Ospedaletti, nell'altra invece Tarros, Spezia e Vado. Forte delle due sole sconfitte in tutta la stagione, l'Ospezia Tarros affronta quindi le semifinali play-off contro Vado, consapevole però che questa dote, se valeva nei gironi precedenti, ora non conta più nulla. Da qui in poi ogni partita è davvero a sé stante, ogni partita è in realtà una finale. Semifinali che si giocano al meglio delle tre, la squadra cioè che vince due gare su tre passa al turno successivo. Gli incontri per quanto riguarda Tarros-Vado sono previsti domani, domenica 22 aprile alle 18 al Pala Sprint, domenica 29 aprile alle 18.15 a Vado Ligure e mercoledì 2 maggio alle 20.30 di nuovo sul parquet Spezzino. Questa partita però potrebbe non disputarsi nel caso di vittoria della solita squadra nei due incontri precedenti. Prima palla 2 quindi per Tarros-Vado domani alle 18 al Pala Sprint, arbitreranno Davide De Angeli di Genova e Gabriele Rigato di Rapallo. L'appello della società è quello di riempire il Pala Sprint e tingerlo di bianco-nero. Alla squadra serve tutto il sostegno del proprio pubblico.